ingresso portoncino blindato nuovo corridoio con lo specchio un piccolo sgambuzzino un ripostiglio per le scarpe detersivi eccetera una cassa banca ma c'è la prima camera c'è un comodino un letto alla piazza finestra comisionosissima che faccio sul giardino interno televisore un decoder sedia sedia piccolo sospettoio armadio con cassettiera pavimenti nuovi impianto elettrico a norma luminoso seconda camera da letto con armadio treante cassettiera sedia metto una piazza e mezza scrittoio letto una piazza pavimenti tutti nuovi impianto elettrico a norma bagno lavabo video e water mobiletto fumi finestra con tutte con zanzariere lavatrice doccia doccia nuova tappellino incorporato poi abbiamo la cucina con tavolino due sedie cinque scopportelli frigorifero o un piccolo gelatore tv finestra luminosissima che affaccia sul portile interno silenzioso macchina del gas lavandino con i pensili e affacciano sul portile interno della parrocchia salto maria